Gaetano Romanelli, ex presidente e vicepresidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili di Sala Consiglina Lago Negro, interviene in merito al commissariamento deciso dal Ministero della Giustizia dell'Ordine guidato ora da Annunzio Ritorto e risponde alle accuse dello stesso Ritorto. Mai avrei voluto commentare il commissariamento del nostro Consiglio dell'Ordine, scrive Romanelli, e la decadenza da Presidente di Annunzio Ritorto, anche per quanto lottato per la permanenza ed esistenza del nostro Ordine all'indomani della soppressione del Tribunale di Sala Consiglina. Detto questo, aggiunge Romanelli, bisogna chiarire con precisione e correttezza, evitando ulteriori confusioni, che il decreto firmato dal Ministro Cartabbia, di nomina del commissario e di decadenza di Ritorto e del Consiglio, non fa altro che restabilire il legittimo e regolare svolgimento dell'attività amministrativa dell'Ordine. Il commissario accompagnerà, spiega ancora Romanelli, anche rispondendo alla lettera di Ritorto all'indomani del commissariamento, l'Ordine fino alle prossime elezioni, garantendo il corretto funzionamento e la terzietà dovuta dall'istituzione. Mi corre anche l'obbligo, conclude Romanelli, di affermare che le reazioni fuori luogo di Ritorto, rispetto a un legittimo provvedimento del Ministero di Giustizia, non mi sorprende addossare le responsabilità agli altri senza analizzare le proprie di Presidente eletto in una lista unica, che dopo soli tre anni di operato si ritrova a non riuscire a convocare e costituire in modo legittimo un consiglio, e tenta di trascinare la propria presidenza e visibilità in modo ostinato e contrario alle minime regole di democrazia, avrebbe indotto chiunque a tacere o a una profonda autocritica, non certamente ad attacchi ingiustificati, ma ognuno ha il suo modus operandi.